La bonifica urgente, pericoloso oltre che indecoroso a lavorare in queste condizioni, la chiedono commercianti e produttori che frequentano il mercato dei fiori di Terlizzi, stanchi dalla presenza di intere colonie di colombi e dei loro escrementi. L'immagine è che un fioraio prende dei fiori e li trova defecati sopra. Un fioraio va per l'acquisto dei fiori e viene defecato addosso. Sta fermo e viene sporcato di questi fici, di questi colombi che volano dappertutto, come lei sta vedendo, stanno da tutte le parti. Temono la diffusione di malattie, le condizioni igienico-sanitarie sono al limite, fanno notare la struttura del mercato, ospita anche gli uffici comunali, per questo hanno firmato una petizione condivisa dalla consigliera comunale Mariangela Galliani. Urge trovare una soluzione, dicono, prima che sia troppo tardi. Noi chiediamo da priori di mettere le doppie porte a quando non ci dovrebbe essere più l'invasione dell'entrata dei colombi, perché rimanendo la porta esterna aperta e quella interna chiusa non c'è più l'invasione di questi volati. In passato, spiegano dalla direzione del mercato, sono stati utilizzati i falchi, ma il problema si ripresenta. Allo studio ci sono altre soluzioni. Si è proposto, e questa è una cosa da valutare con il dirigente, vedere se effettivamente si può fare, quello di impiantare una rete metallica al di sotto dei pali, dei tubi che stanno al soffitto del mercato.